Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò e spiegherò come completare l'incarico in arrivo che richiede di colpire animali selvatici con le granate o gli archi a onda d'urto. Tutto quello che dovete fare è procurarvi delle granate a onda d'urto oppure un arco a onda d'urto. L'arco può essere costruito con un arco semplice e delle granate a onda d'urto. Gli animali selvatici potete trovarli qui alla fattoria di Steel. Ci sono sempre dei polli quindi qui completate l'incarico. Quindi la prima cosa da fare è andare in giro a cercare le granate onde d'urto oppure gli archi. Diciamo sono piuttosto semplici da trovare e da costruire nel caso degli archi. Quindi per non farvi perdere tempo nella visione vado in giro a cercare le granate e ci risentiamo tra poco. Rieccomi ho trovato le granate che mi servono eccole qua. L'arco non ce l'ho quindi diciamo procederò al completamento dell'incarico con le granate. Però se avete l'arco diciamo è la stessa cosa. L'importante è che colpite un animale selvatico con le granate. L'incarico dovrebbe funzionare anche con i polli perché sono animali quindi insomma venite alla fattoria una volta che avete il necessario. Così evitate di andare in giro a cercare lupi, cinghiali e dinosauri. Lanciate la granata e voilà l'incarico è completato. L'incarico dovrebbe funzionare anche con i polli.